Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su come installare Fuel Per chi non conoscesse questo gioco io vi lascerò le trailer in sovrappressione Adesso vedremo come installarlo Prima di tutto vi scaricherete il file torrent che vi lascerò in descrizione Aprite E ve lo scaricherete, io l'ho già scaricato Aprite DamanTools E trascinate il file ISO qui dentro E montatelo Doppio clic sull'icona di gioco Ed ora passiamo ad installarlo Fate doppio clic su setup Cliccate su italiano Cliccate su ok E lui inizierà a scaricare Quindi cliccate su avanti Accetto i termini del contratto di licenza Poi cliccate avanti Cliccate su completa Poi cliccate avanti E installa E lo installerà Noi ci vediamo a fine installazione Una volta finita l'installazione Vi darà questa schermata qui E voi cliccate su no E poi cliccate su fine Potremmo Di installare la crack Purtroppo Coloro che hanno creato In questo file ISO Hanno aggiunto una crack Che scaturisce due problemi Un'appunto che non funziona E l'altro che Mi farà funzionare Il file ex Del gioco Quindi Io in descrizione vi lascerò Due link Per Fixare questo Tutto problemi qui Quindi Andate su Andate su Computer PC Programmi E cercate la cartella Codemasters Cliccate su fuel E bisogna installare A crack Aprite questa cartella Qui E trascinate i tre file Qui dentro Cliccate su Sostituisci E adesso bisogna Fare il stesso procedimento Però con Il file ex Fixato Quindi Trasciniamo Questo file qui dentro Qui O dentro E clicchiamo su posta Sostituisci Ora è già stato Inserrato correttamente E Io vi ringrazio Per la visione Vi saluto E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao